Allora è sempre molto complicato entrare così poi a gamba tesa su Stevie Ray Vogan con i Double Trouble in questa Texas Flood uscito il 13 giugno 1983, omonimo album per Epic Records, ma siamo giunti alle 10.42.22 secondi, seconda parte di almeno due pagine al giorno, ma è proprio di blues, di ritmi personali come scrive sul suo profilo Facebook fra Taranto e Tricarico e di questo che vogliamo parlare stamattina con il nostro ospite in attesa. Intanto grazie mille a Enzo Granella per essere qui con noi. Ciao Enzo, buongiorno. Ciao, saluto a tutti e a tutte. Allora Enzo, intanto grazie per aver accettato il nostro invito a partecipare ad almeno due pagine al giorno per raccontare un tuo nuovo progetto musicale. Intanto Enzo Granella è un cantautore che ha realizzato tutta una serie di collaborazioni e, correggimi se sbaglio, Enzo, assolutamente attiva quella con i Tarantolati di Tricarico, una lunga collaborazione con gruppi come Radicanto, produzioni anche personali, individuali, da solista. Vi suggerisco di recuperare insomma anche il lavoro discografico di Enzo Granella che da anni ripropone a livello autoriale insomma le tradizioni popolari. Qui siamo in realtà a raccontare un progetto che incrocia Rocco Scotellaro, no? E, correggimi se sbaglio, che è stato scrittore, poeta, è stato politico, che ha scritto tantissimo, che attivamente, come dire, ha messo le mani dentro la carne viva del territorio da cui arriva la Basilicata. Lui era nato a Tricarico, è morto giovanissimo, a trent'anni, a poco più di trent'anni. Tu, venerdì, dopo domani, a Bari, presenti una data, se vogliamo, zero di un nuovo esperimento che è quello che si chiama Racconti Sconosciuti, la poesia popolare e la prosa di Rocco Scotellaro. Tu, con la tua voce e con le tue chitarre, porti in scena Rocco Scotellaro. Partiamo da qui, insomma, di che tipo di spettacolo stiamo parlando, Enzo? Sì, è un percorso tra la poesia popolare, nel senso che io apro e chiudo lo spettacolo con alcuni brani che sono proprio testi popolari che io ho musicato, perché sono, in alcuni casi, testi che io ho recuperato senza avere cognizione delle musiche che li accompagnavano in origine, perché, appunto, varie ricerche bibliografiche ho trovato questi testi. In alcuni casi, invece, sono dei testi che io ho, dei testi di appartenenti a canzoni che io ho riscritto, nel senso che parto dalle melodie originali, però poi ci sono degli arrangiamenti e delle parti aggiunte anche di musica originale. Quindi parto e poi concludo anche con questi brani, alcuni di questi brani, che tra l'altro sono all'inizio Lucania, ma anche un po' Campania, Calabria, e finisco invece proprio con Taranto, con la tradizione tarantina, città da cui provengo. La parte centrale del spettacolo, invece, è quella dedicata a Rocco Scotellaro. In particolare, io ho detto la prosa poetica perché mi sono rivolto essenzialmente a un testo di Rocco Scotellaro, che tra l'altro è un libro che è rimasto incompiuto, perché lui appunto morì, diciamo, per cause di una malattia che lo colpì e che in breve tempo lo ha portato alla morte, ma erano praticamente una serie di saggi, chiamiamoli così, perché facevano parte di una ricerca che lui stava conducendo in tutto il sud Italia. Era partito dalla Basilicata, dalla sua terra, ma già si stava spingendo in Campania, in provincia di Avellino. Quindi questa serie di racconti che io appunto vanno, tutto il titolo, sono stati pubblicati sotto il titolo di Contadini del Sud. Però io appunto ho intitolato lo spettacolo e il titolo si riferisce soprattutto a Scotellaro, Racconti sconosciuti, perché lui parla di questi racconti come casi, esempi di una serie amplissima che si potrebbe appunto raccogliere di vite, di persone umili che appartengono appunto alla civiltà contadina, come tradizione, come esperienza, eccetera. E quindi io magari se vuoi, perché nello spettacolo a un certo punto leggo queste pochissime righe che riguardano proprio il suo modo di intendere la scrittura di questo testo, lui in pratica intervista queste persone e lascia che queste persone raccontino la propria vita a briglia sciolta. E poi trascrive questi racconti lasciando intatte tutte le parti di italiano approssimativo che queste persone che non hanno un'istruzione vera e propria hanno espresso. E quindi lui dice il suono errato, il suono errato ha una sua rilevanza linguistica e poetica per la stretta relazione con il linguaggio parlato che più conserva quelle desinenze arcaiche che si riscontrono in questo scritto. Quella lingua è la misura di tutto il paesaggio, degli uomini e delle cose di quella regione. Leggendo questo e i mille altri racconti sconosciuti, si vuole credere all'infinita molteplicità della parola, nell'infinita varietà del mondo, come lo vedono le creature umane che sanno amarlo e cercano di capirlo. Bellissimo. Ovviamente io ci tengo, nello spettacolo, a leggere questo passaggio perché esprime in maniera come sapeva fare Rocco. Io mi permetto di chiamarlo per nome solo perché appunto avendo da quasi dieci anni frequentato Tricarico e a Tricarico appunto è un compagno di strada. E allora ne hai facoltà insomma, assolutamente. Diciamo che mi prendo questa licenza. Vabbè comunque lui sapeva fare questo, sapeva raccontare, sapeva descrivere, sapeva anche fare saggistica in maniera sempre poetica. E quindi il mio lavoro a un certo punto è stato quello di dire alcuni musicisti hanno musicato le poesie di Rocco Scotellaro. Io invece vorrei, perché questo materiale di questo italiano misto a espressioni dialettali, anche a neologismi che si riscontrano, si ritrovano, io lo voglio portare, mi piace troppo, lo devo mettere in musica perché è quello che so fare, mettere in musica. E quindi ho provato a fare questo esperimento che appunto, come dicevi tu, è un numero zero perché voglio testare che l'effetto abbia sul pubblico. Ascolta Enzo, ti interrompo per questo, perché intanto nel 2023 cadeva il centenario della nascita di Rocco Scotellaro e voglio segnalare, insomma come facciamo molto spesso all'interno di almeno due pagine al giorno, dei materiali che si possono recuperare anche in rete agevolmente, per esempio sulla sezione del sito del manifesto, che ha dedicato amplissimo spazio nel supplemento culturale Alias, proprio ai cento anni, diciamo all'eredità culturale di Rocco Scotellaro. Ma si legge in uno di questi contributi, addirittura di alcune parole commosse di Carlo Levi, che diceva Scotellaro, poeta vero in tutti i sensi contemporanei ed equivalenti della parola come azione, come creazione, come immagine della libertà contadina. Un poeta nella letteratura e nell'impegno sociale, una voce riconoscibile e forte nel dibattito pubblico dell'Italia del secondo dopoguerra. Dico questo e ti voglio insomma anche sollecitare su questi elementi perché mi è capitato di ascoltare un'intervista per esempio a Romano Prodi a proposito delle ultime elezioni in Abruzzo. Lui è tornato a parlare dei contadini per esempio e molti osservatori politici l'hanno anche un po' preso in giro perché si parla ancora dei contadini. Quanto estringente in realtà l'opera, il lavoro, la scrittura, il pensiero per esempio di Rocco Scotellaro che recupera, come dire, che mette al centro la cultura contadina e le tradizioni in maniera potente, non in maniera diciamo beceramente identitaria ma come valore fondante, uno dei valori fondanti anche della nostra storia. Enzo? Allora, sicuramente così come per gli operai, si ha pudore a citare operai, contadini perché si pensa che queste categorie siano superate, l'automazione nel lavoro dei campi, insomma per tanti motivi si ha appunto e poi si finisce anche con deridere chi ne parla ancora. Però non possiamo dimenticare che purtroppo il sistema sociale in cui viviamo tende sempre a trovare dei nuovi ceti, delle nuove classi, chiamiamole come vogliamo, da sfruttare. E quindi al di là del fatto che possano essere italiani o stranieri, perché nei campi ci sono tantissimi migranti oggi, esiste ancora questo problema della gente che viene sfruttata e viene trattata come bestie nel lavoro dei campi. Colgo questo tuo spunto per dire anche che al termine del passaggio dello spettacolo in cui vengono eseguite le canzoni che sono tratte da contadini del Sud, io metto un unico brano che invece è tratto da versi poetici di Scotellaro, che è l'insieme di due poesie. Una si intitola Comizio Volante, che è tratta dalla raccolta Margherita e Rosolacci di Scotellaro e una novena per giugno tratta da E' fatto giorno. Sono entrambi, io per quello le ho accomunate, sono entrambi appunto proprio dei versi, delle poesie che toccano questo tema. C'è appunto il fatto che l'insieme dei contadini, la gente che lavora ai campi, che è in questa condizione di subordinazione, possa avere un moto di ribellione, possa trovare il modo di resistere innanzitutto, ma poi anche di avere un moto di ribellione contro questa situazione. Il brano io l'ho intitolato come la prima di quelle due poesie, quindi Comizio Volante. Il ritornello alla fine dice «Avanti uomini, gambe guarnite di stracci, un nostro compagno lontano è caduto sui suoi passi». Questa esortazione si collega poi al passaggio precedente dei versi dove si dice che avviene nel nostro Comizio Volante come quando un uomo cade sui suoi passi e i marciapiedi si svuotano in quel punto. E' esattamente la fotografia di quello che accade. Noi continuiamo a ignorare, a tenere ai margini questo problema, perché si diceva che i contadini non esistono più, esistono le agricoltori evoluti ormai, ma non è vero perché continuano ad esserci tanti schiavi purtroppo nelle nostre terre, nei nostri campi a lavorare. Mi calmo qui perché come hai capito la passione mi porterebbe... No, no, ma infatti il calore, diciamo, delle tue parole ci coinvolge diciamo in maniera totale per cui insomma sarebbe poi anche questo può essere anche come dire uno spunto per te provare poi dopo questo concerto numero zero provare anche magari a far girare questo spettacolo perché ha una pregnanza assolutamente poi condivisibile anche diciamo da queste parti perché voglio ricordare ancora i racconti sconosciuti, la poesia popolare e la prosa di Rocco Scotellaro con le musiche, voce e chitarra di Enzo Granella venerdì 15 marzo Alimentare Libertà a Bari che è un quartiere diciamo di cui anche si parla diciamo a volte anche a sproposito perché tu lavori anche in quel quartiere di Bari un quartiere complesso diciamolo no? Però diciamo pieno di spunti e di stimoli diciamo per costruire anche il tuo lavoro quotidiano di racconta storie e io lo dico con tutto diciamo l'affetto e anche diciamo la nobiltà insomma della definizione no? Insomma succede in un luogo piccolo ma molto vivo diciamo di Bari questo tuo spettacolo no? Sì è un praticamente la sede di questa associazione che si chiama Alimentare Libertà e il locale, il posto si chiama Alimentare Libertà perché fa riferimento come pretesto diciamo al fatto che anni addietro era proprio un negozio di alimentare che è stato tutto ristrutturato e adesso nelle intenzioni dell'associazione Alimentare Libertà è quella appunto di alimentare il quartiere che si chiama Libertà con esercizi di libera espressione eccetera e quindi in questo luogo che è anche un punto particolare del quartiere si stanno svolgendo già dall'anno scorso tanti eventi culturali tra musica, teatro anche presentazioni visibili eccetera e qui c'è un pubblico molto attento molto partecipe, interessato per cui per me sarà molto emozionante anche raccogliere le loro impressioni e vedere un po' che effetto fa e allora intanto io dico a chi ci ascolta anche soltanto in streaming che se fosse dalle parti di Bari e quindi non in Val Pellici o a Torino o in Liguria ma dalle parti di Bari il 15 marzo Racconti sconosciuti di Enzo Granella è lì ad aspettarvi per un racconto appassionato e appassionante intorno alla prosa e alla poesia di Rocco Scotellaro l'invito è a seguire il lavoro anche in rete seguendolo sui social il lavoro di Enzo Granella intanto Enzo io ti ringrazio moltissimo per essere stato qui ad almeno due pagine al giorno grazie ancora e speriamo di incontrarci presto Enzo grazie ancora grazie a te grazie alla rete l'invito che mi avete rivolto è stato veramente molto molto gradito grazie ed è stato un piacere anche per voi intanto noi torniamo alla musica siamo quasi in chiusura ma questi sono i Motor Psycho grazie a tutti i nostri spettatori